E torniamo in diretta con il tema della sicurezza dei dati nella videoanalisi. Ne abbiamo parlato un po' in tutte le salse di quanto il tema cyber è diventato importante. Ce ne siamo, forse il primo booster è stata la pandemia, il secondo è la guerra. Insomma, non se ne può più fare a meno. Abbiamo con noi Stefano Riboli, Marketing Video Systems, Bosch Security Systems, che ci parlerà proprio di questo tema, videoanalisi e sicurezza dei dati. Stefano, a te. Durante la sessione di oggi avrò il piacere di presentarvi quello che è il tema della videoanalisi legato alla sicurezza dei dati. Sono due argomenti che sembrano apparentemente disgiunti, ma vedremo meglio in quello che è la vision di Bosch e come le due tematiche vanno di pari passo. Anzitutto vorrei affrontare con voi alcune tematiche legate a quelle che sono le prospettive del video, quindi della videosorveglianza in un mondo definiamolo IoT. Per fare questo vorrei approfondire tre principali punti. Uno è il messaggio che definiamo Power to Predict, cioè il viaggio che ci accompagna per arrivare a questo specifico obiettivo. Un tema legato alla videoanalisi e nello specifico all'Artificial Intelligence, per poi vedere le applicazioni di Artificial Intelligence, che opportunità di business possono portarci nelle applicazioni odierne e future. Anzitutto, per quello che è il viaggio del Power to Predict è necessario verificare e valutare insieme quelle che sono le evoluzioni del mercato e le esigenze dei clienti. Allora, dal punto di vista della connettività è naturale ed è chiaramente visibile, palese, che entro il 2025, quindi questi sono dati presenti da fonti di mercato, ci saranno più di 75 miliardi di dispositivi connessi a Internet. Se immaginiamo all'interno di questo grande bacino, la parte di telecamere IP rappresenta un ampio numero di questi dispositivi interconnessi. E, secondo queste stime, nell'arco di tempo tra il 2021 e il 2026, quindi siamo già in questo arco di tempo, è prevista una crescita annua pari al 10% del numero di telecamere IP connesse e inconnesse nel maggior specifico a quello che è l'ambiente della connettività a Internet. Ora, se noi prendiamo quello che tutti questi device, dispositivi IoT, realmente trasmettono informazioni, dati e se pensiamo che tutti questi dati, se non utilizzati, ci rendono poveri di informazioni, è un grosso peccato. Visto dall'ottica di quelli che sono i requisiti dei clienti, quindi parliamo degli utenti finali, sempre da studi di settori e fonti, gran parte degli utenti si aspettano di ricevere dei chiari vantaggi dalla tecnologia e tra i primi che la tecnologia renda più confortevole quello che è la vita di ogni giorno. Da qui per noi di Bosch è anche Invented for Life il claim. Se poi vediamo, andiamo più addentro in quelle che sono le tematiche, sempre dal punto di vista dei clienti, quindi degli utenti finali, si aspettano che i dispositivi permettano di avere maggior sicurezza, quindi prevenire incidenti, prevenire danni, prevenire la criminalità, ridurre tutto questo e semplificare quello che è il lavoro quotidiano. Chiaro che questo si inserisce a disposizione di quello che abbiamo come device, quindi vuol dire avere già oggi hardware molto più performanti e una quantità di dati che non sono utilizzati, quindi dati che provengono da sensori. L'impiego di sistemi con artificial intelligence e l'analisi predittiva di soluzioni responsabili dal punto di vista ambientale e soprattutto attendibili sono all'interno di questo basket. Ora, per darvi un'idea maggiore di quello che è la visione odierna e futura, è ovvio che una telecamera di videosorveglianza deve dare delle immagini che siano qualitativamente di qualità affinché l'operatore di fronte a una sala controllo o un monitor possa capire che c'è un veicolo fermo o se c'è una persona in mezzo alla strada e questa è una verifica prevalentemente fatta dall'individuo. Già oggi, per mezzo della tecnologia, siamo in grado di aiutare l'operatore in questo compito attraverso una verifica assistita, cioè il sistema genera degli eventi e l'operatore li verifica. Questo per mezzo di tecnologie già a bordo camera, quali la videoanalitica. L'idea, verso il domani, è portare questa tecnologia assistita verso una verifica automatica fino a una verifica predittiva, cioè per mezzo delle analisi provenienti, dei dati provenienti dalle telecamere, riuscire a prevedere o prevenire quello che può essere qualcosa che è già accaduto o che potrebbe riverificarsi. Quindi la nostra offerta, dal punto di vista del catalogo, si amplierà verso soluzioni di analitica che a voi vi presenterò, quindi di artificial intelligence e verso soluzioni anche legate al mondo cloud. Per fare tutto questo, chiaramente ci sono dei requisiti alla base dei prodotti che prevedono di avere l'artificial intelligence a bordo, che poi vediamo dal punto di vista applicativo specificatamente a cosa mi riferisco, e dispositivi connessi in cloud per offrire servizi aggiuntivi e soprattutto, essendo dispositivi interconnessi, delle soluzioni attendibili e possibilmente con dispositivi sicuri di fabbrica, quindi sicuri by design. Ora, se vediamo il primo punto legato al tema della videoanalitica, già oggi offriamo tre opzioni di videoanalisi ai nostri clienti. Tre soluzioni di videoanalisi. La prima sono soluzioni di videoanalisi legate alla sottrazione del background, cioè si basano sul fatto che l'oggetto debba essere in movimento per essere tracciato, analizzato e l'oggetto dopodiché ha delle proprietà dimensionali e spaziali. Queste proprietà vengono poi dopo sottoposte a delle regole, le quali scatenano degli eventi. Questa analitica è a bordo di tutte le telecamere del catalogo già da fino al 2016. In aggiunta a questo tipo di analitica, sono state inserite delle funzionalità di machine learning che vengono chiamate camera trainer e queste tecnologie di machine learning sono integrate nel prodotto e permettono di rilevare anche la presenza di oggetti statici, spigendoci in casi d'uso specifici sui clienti, quali per esempio la verifica degli stalli, la verifica delle baie, quindi utilizzo della tecnologia non solo ai fini della security, ma ai fini dell'ottimizzazione dei processi o anche della safety, per esempio anche monitorare la presenza dell'estintore su una parete o verificare la quantità, come dicevo, di veicoli presenti negli stalli. Questa è una tecnologia a bordo delle telecamere dal 2019 e recentemente dal 2021 abbiamo introdotto in aggiunta alle due già presentate una nuova tecnologia che si chiama Traffic Detector che si basa su reti neuronali e la telecamera avendo già a bordo una serie di informazioni di come un veicolo o una persona si presenta nelle scene è in grado automaticamente di classificarla e offrire dati e informazioni ancora più preciso rispetto ad altre tecnologie. Tutto questo che vi ho presentato come videoanalisi si sposa come obiettivi, quindi come Green Promise, quindi una gestione efficiente, una riduzione del CO2, adesso da un punto di vista pratico vuol dire che tutti i dispositivi permettono una piena configurazione della videoanalisi da remoto sia sulla diretta che sul registrato, per mezzo anche di un solo tecnico a campo o un tecnico in remoto, quindi vuol dire ridurre le risorse a campo e i tempi degli interventi, per mezzo di servizi cloud su tutte le telecamere IP, sempre per mezzo di servizi cloud è possibile offrire anche delle soluzioni WMS basate su cloud e sempre per mezzo anche del cloud definiamo degli aggiornamenti firmware over the air cioè direttamente dal cloud poter aggiornare i dispositivi mantenendoli aggiornati e sicuri nel tempo. Tutto questo è un portfoglio di telecamere che ha 5 anni di garanzia certificati dal punto di vista IoT secondo Security Maturity Model quindi definiti Security by Design e Ready to Connect perché sono già predisposte per la connettività al cloud Bosch. Quando ho parlato di Security by Design non posso fare a meno di citare pochi esempi quali il locking firewall diretta a monte a bordo delle telecamere che rappresenta più del 75% degli attacchi dei dispositivi IoT il firewall a bordo della telecamera permette di mettere in blocco eventuali tentativi di accesso tramite l'utilizzo di credenziali ed esiste anche una modalità autoriparante per cui la telecamera ripristina il client in blacklist al primo inserimento di una password corretta questo perché ha lo scopo di non bloccare il tecnico a campo un altro aspetto importante che accompagna 5 anni di garanzia è il fatto che tutti i dispositivi Bosch hanno una piattaforma comune e offriamo aggiornamenti firmware per un periodo di 5 anni dalla data di fine produzione della CPP questa è una protezione dell'investimento sia dal punto di vista installativo perché vuol dire avere dispositivi che vivono dal punto di vista tecnologico nel tempo come dicevo prima anche per mezzo di aggiornamenti firmware attraverso cloud ma soprattutto avere un dispositivo a campo sempre protetto e questo è 5 anni e un lunghissimo periodo accompagnato da aggiornamenti firmware e dalla garanzia sulla parte di elettronica delle telecamere firmware come abbiamo detto aggiornabile anche attraverso cloud soprattutto protetto per mezzo di una doppia verifica quindi il rischio di introdurre un firmware sbagliato all'interno del dispositivo Bosch è ridotto al minimo se non annullato grazie a un firmware crittografato e una firma digitale cosa vuol dire che la telecamera Bosch Bosch prima di poter eseguire il firmware a bordo camera il nuovo deve decriptare e verificare la firma digitale e infine un ultimo punto una volta terminata la configurazione del dispositivo è possibile apporre un sigillo il sigillo permette in caso di modifiche alla configurazione volute o non volute di notificare un cambio alla configurazione tutto questo serve per proteggere il device che essendo come un sensore è a campo e se si occupa anche di funzioni di analitica o di intelligenza artificiale ha l'obiettivo di offrire il più possibile un'attendibilità dell'informazione e del dato ora parlando di videoanalisi di intelligenza artificiale cosa dire? A parte che è vent'anni che come Bosch produciamo dispositivi di videoanalitica o soprattutto algoritmi di analisi video che abbiamo stabilito un nuovo dipartimento di ricerca già da alcuni anni dedicato all'artificial intelligence questo dipartimento di ricerca poi ha il vantaggio di utilizzare algoritmi di sviluppare algoritmi per i quali le telecamere adottano gli stessi utilizzati nel settore automobilistico e di essere estremamente robusti anche in condizioni climatiche avverse quello che poi vediamo all'interno del portfoglio sono le tre tipologie di analitica che vi ho presentato prima ma fondamentalmente parliamo di due tipologie di videoanalisi una chiamata Essential e una chiamata Intelligent dove Intelligent permette una maggior robustezza alle condizioni climatiche ma soprattutto un raddoppio delle distanze vuol dire installare molto meno telecamere a parità di altre tecnologie per poi arrivare a soluzioni anche di deep learning quale rilevamento traffico quindi una volta che la telecamera è dotata di videoanalisi a bordo permette di scegliere tra più di 16 regole applicabili fino a 16 in parallelo con filtri oggetti dimensionali quali il rapporto verticale-orizzontale direzione, altezza, larghezza, velocità e componente colore fino anche a personalizzare le regole questo vuol dire creare delle soluzioni vestite sull'ambito applicativo del cliente ora, l'analitica che cosa restituisce nel caso specifico del traffic detector che è quella basata su deep learning restituisce informazioni anche sulla geolocalizzazione la velocità e il colore degli oggetti che si spostano nello spazio permette di classificare fino a 6 classi di veicoli quindi persone, cicli, motocicli, veicoli, mezzi pesanti, autobus e rilevare e contare le persone anche in ambienti estremamente affollati ora, vediamo alcune applicazioni poi vi farò vedere dei video al termine della mia spiegazione il primo potrebbe essere rilevare un veicolo fermo e una persona in corsia d'emergenza anche in una situazione di traffico come potete vedere in questa foto un altro esempio potrebbe essere in ambienti video e sorveglianza cittadina contare le persone, per i fini statistici avvisare l'attraversamento di pedoni nei momenti in cui i semafori dovrebbero permettere il passaggio dei veicoli e quindi controllare il rispetto delle norme di sicurezza un altro esempio applicativo potrebbe essere in ambito aeroportuale in un'immagine di questo tipo avere chiaramente un'informazione numerica di quante persone sono presenti nella scena per capire che magari in quella parte del terminal o in un specifico ambiente o in una specifica condizione climatica esterna al terminal è necessario ridurre l'affluenza del personale un altro è il mascheramento quindi anche proteggere dinamicamente la privacy degli individui quindi nonostante analizzare i dati mascherare ciò che riteniamo non necessario e soprattutto in condizioni difficili come questa escludere l'effetto delle ombre quindi possiamo considerare che le telecamere sono dei sensori che a parte svolgere funzioni di videoanalisi di videosorveglianza svolgono funzioni di raccolta dati che devono essere protette in quanto dispositivi IoT e che i dati a bordo delle telecamere presenti a catalogo sia fisse o mini DOM quindi box o panoramiche di varia natura sono già presenti a bordo quindi come vedete è un catalogo che offre già funzioni di videoanalisi Essential, Intelligent, On Traffic Detector su differenti tipologie di telecamere quindi per Bosch la videoanalisi è standard su tutte le telecamere fisse o PTZ del catalogo ora chiaramente c'è anche un aspetto molto importante che è legato all'integrazione e mi riferisco all'integrazione con i principali WMS di mercato tra cui Milestone e Genetech i quali supportano appiene come integrazione nativa la videoanalisi Bosch e ci tengo a spendere due parole legato all'onvifemme in quanto i dispositivi telecamere Bosch offrono anche un flusso di dati legato all'onvifemme quindi tutti i dispositivi IoT apprezzano questo tipo di integrazione perché permettono di raccogliere dati da sorgenti diverse semplificando anche l'integrazione del dato lato camera vediamo un attimino le soluzioni nei pochi minuti che mi restano a disposizione come vedete questo è un panorama di applicazioni che non richiama chiaramente la regola che vi ho presentato prima quali il superamento della linea l'ingresso nel campo, il conteggio ma sono applicazioni che sono vestite sull'ambito applicativo utilizzando l'interfaccia standard del prodotto quali per esempio potremmo vedere applicazioni un po' particolari la telecamera come sensore in quanto la telecamera è in grado di rilevare lo stato di una sbarra aperta o una sbarra chiusa a un passaggio livello e in questo caso può essere una tecnologia aggiuntiva per esempio come sensoristica per capire cosa accade a campo oltre che magari verificare che non attraversino cicli poco prima dell'attraversamento del treno sui binari cosa altamente pericolosa se vedete non è un'applicazione di security ma di safety in questo caso un altro esempio che potrebbe essere in abito logistica è la verifica delle vie o i percorsi che le persone all'interno di una logistica devono compiere per evitare che muletti entrino a contatto con i singoli individui all'interno dell'area sia dal punto di vista delle aree o addirittura anche in magazzini automatizzati come in questo caso dove l'obiettivo è fare in modo di ridurre il rischio che un muletto entri in contatto con una persona all'interno di un magazzino automatizzato per spingerci oltre farvi vedere qualcosa legato anche al mondo traffic potrei farvi vedere quello che può offrire una telecamera come informazioni statistiche in un incrocio quindi anche ad alta densità sia diurno che notturno distinguendo i veicoli per categoria avendo un'informazione chiara nelle varie fasce orarie del giorno e della notte e della settimana quali sono i momenti di criticità del traffico permettendo una gestione dinamica della semaforica anche in caso di ingorghi oppure in un ambiente come vi facevo vedere prima aeroportuale capire immediatamente ciò che accade avendo un'informazione numerica del numero delle persone presenti in scena scusate e applicare anche delle modalità di privacy mask dinamico al fine di ridurre quello che è anche la componente legata al dato quindi all'utilizzo delle informazioni personali quindi direi che questo è il viaggio che ci accompagna verso le nuove prospettive legate al mondo della videosorveglianza dell'IoT per sfruttare nuove opportunità di business insieme che non sono solo la parte di videosorveglianza ma diventa la telecamera come un sensore ma senza perdere mai di vista la protezione dell'investimento e la sicurezza dei dati grazie Stefano hai avuto anche un po' di colpi di tosse oggi ti abbiamo veramente spremuto come un limone prima il talk show poi questo intervento dove finalmente siamo entrati un po' nel dettaglio di tutte le possibili applicazioni su tutte le tematiche che abbiamo affrontato anche nel talk show grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori